Solta un po' di spazio, ingrosso, cerca di nescare sulla sua perpendicolare, Prezioso che arriva dentro l'area di rigore, ancora Prezioso all'indietro, la finta di Paterno, poi Cecua! Tornato, infatti in posizione retta Montegudo, riparte il Catania, Greco che è tornato stabilmente a sinistra, vince un contrasto, Greco con l'intervento difensivo, arriva Biondi, palla che rimane a disposizione del 10 e poi l'intervento di Tommaso Nobile che stava per vedere Sesca da parte di Pierno che è da sinistra a destra, ha seguito il taglio di Russini, ci ha messo una pezza ma attenzione ancora al Catania, pinto, Moro, c'è un po' di spazio per Moro, la conclusione di Luca Moro, Russini accanto a lui, servito il 20, due uomini davanti a Russini, Russini sul fondo, ancora Russini, parte il cross, Biondi! Catania 1, Virtus Francavilla 0, l'asse Russini-Biondi, terza rete stagionale per il numero 10 del Catania Montegudo, l'uscita di Sala sembrava proprio sicurissima, Montegudo per, ci ha messo la testa, c'è un po' di Cataldi in questi primi 60 minuti di gioco, Russini centralmente, Russini col destro sul fondo C'era Greco sulla traiettoria, probabilmente, Albertini come sempre in sovrapposizione, dietro Rosaia, Biondi va da Moro, l'1-2, palla per Albertini, Albertini all'interno dell'area, nobile! Intervento salva risultato! Per dare una frittata, ridosso l'area di rigore sarebbe stato un pallone molto pericoloso, l'1-2, qui pregevole fra Russotto e Russini, Russotto all'interno dell'area, sul secondo palo, Sipos! Intermetriplice fischio, che arriva adesso e dunque si conclude così!